L'Islanda è una di queste, è una nazionale che è cresciuta tantissimo perché poi nel loro paese hanno fatto delle progettualità importanti sul calcio femminile e quindi domani ci incontreremo una squadra tosta. Ci siamo fatti un po' ingolosire dai primi minuti, ci hanno un po' ingolosito perché abbiamo visto che sembrava che entrassimo come il burro nella loro difesa e quindi inconsciamente per anche il percorso fatto finora, per le prestazioni fatte finora, partendo dal torneo dell'Algarve eccetera eccetera probabilmente inconsciamente abbiamo pensato di giocarcela in quel modo. Quindi quando io parlo di umiltà intendo in questo senso, nel senso di avere sempre ben presente chi siamo noi e come siamo arrivati qua, in che modo ci siamo arrivati e quello è il nostro punto di partenza. Ecco, nella nostra testa il sapere che con l'Islanda e col Belgio devi fare il risultato ce l'avevamo già nel momento in cui siamo arrivati qua e credo che in tutti noi, nelle ragazze, ci sia soprattutto la voglia di far vedere che noi non siamo quelle là. Bisogna semplicemente archiviare, archiviare cercando però di fare tesoro di quelle sensazioni anche negative per far sì di non ripetere, di non rimettere in campo quella roba lì e poi domani con molta umiltà bisogna andare ad affrontare la partita e vediamo domani se abbiamo fatto tesoro dei nostri errori. Sappiamo che l'Islanda è una nazionale forte e come ha detto Milena, la prima cosa che doveva essere messa in campo che abbiamo sempre detto che la nostra caratteristica è la compattezza, che viene prima delle qualità che abbiamo tattiche, tecniche o quelle fisiche che stiamo migliorando e quella roba lì l'abbiamo persa e va rimessa in campo perché tra l'altro è una qualità su cui noi siamo stati capaci di andare anche oltre i nostri limiti ed è una qualità però imprescindibile quando si fa questo tipo di tornei. Più che la voglia di rivalsa è la voglia di esprimersi perché non è venuto fuori quello che siamo quindi di esprimersi innanzitutto, poi il resto è una conseguenza.